Ciao a tutti ragazzi siamo qua in questo nuovo video qua c'è il monte Nerone qua c'è un burrone e adesso andiamo a sgasarlo dai e adesso andiamo a sgasso e adesso andiamo ho preso una pianta non me lo ricordo ho con la maschera nel manubrio seguiamo Giona ho sdoppiato ho tirato una stretta qui la fatica comincia a farsi sentire c'è la musica di sottofondo andiamo per la seconda pianta credi solo mezzi sedi bravo oh che freddo vedete che bello fresco dai willy willy i am hey gemm joint in telburro dai urbano Un freeride estrema Probabilmente il video finirà qua Ciao ragazzi mettete like, iscrivetevi al canale Ciao!